E' interessante, vediamo sempre l'occhio, Fabrizio. Partiti! E' in vantaggio Circi Ship davanti ad Orleans, Master Dream, Pantarei, Miss Steph, De Silva, Flying Lizard, Just Art e Cala Luna. Dopo 300 metri di corsa passa Master Dream davanti ad Orleans, C.P.S.H.P., Pantarei, Miss Steph, Flying Lizard, De Silva, Just Art e Cala Luna. All'inizio della curva in vantaggio Master Dream davanti ad Orleans, Flying Lizard, Pantarei, Miss Steph, De Silva, Circi Ship, Just Art e Cala Luna. Poco prima dell'ingresso in dirittura è in vantaggio Master Dream davanti ad Orleans, Flying Lizard e Miss Steph. I cavalli entrano in dirittura con Master Dream in leggero vantaggio davanti a Flying Lizard lungo la corda. centropista a centropista Miss Steph con più all'esterno De Silva, seguono Orleans, passa Flying Lizard lungo la corda, attaccata all'esterno da Miss Steph. Seguono De Silva, Master Dream e Just Art e in leggero vantaggio Miss Steph davanti a Flying Lizard, De Silva e Just Art. resiste Miss Steph davanti a Flying Lizard e De Silva. E' la bella cavalla. E' la bella cavalla. Gampetto Pianto Pianti, Miss Steph, caro Fabrizio, eh, ci aveva il peco per andare al palo, l'ho fatto... Certo, questo è tutto il terreno buono, quando la vedremo tutto il terreno buono, sarà l'altra cavalla, eh. perfetto. E comunque, bella la miglia di Don Aurelio, perchè Flying Lizard ricorre una grande anche lui, per cui, insomma, eh. C'è anche una buona quota Mario, alla posta contro uno, eh no, eh no. Carletto Piocchi, quindi, insomma, no, no, non tre contro uno, due contro uno, insomma. però, insomma, eh, la vuota è questa. Tre tondo tondo per Miss Steph, caro Piocchi in Estella, al secondo punto numero tre di Flying Lizard, e questo punto numero uno, De Silva, il quinto e il secondo. Ebbene, andiamo subito a Trieste, perché i canali sono prossimi alla... ... ... Grazie a tutti